Ciao, stavo al computer e riflettevo su quello che amici, parenti mi dicono, cioè il fatto che non sono solo al mondo e quindi molte persone soffrono per tutte le critiche che mi vengono fatte, cioè critiche, la maggior parte diciamolo, la maggior parte sono persone naturalmente che la pensano come me, però ci sono sempre una piccola percentuale di persone che chiaramente la pensano in maniera diversa. Sorrido già perché mi sono messa a leggere un po' prima di uscire questi messaggi e sorrido perché forse molti di voi non lo sanno, io giocavo a pallavolo, il mio sport è sempre stata la pallavolo e quindi mi sono state alzate delle palle dalla squadra avversaria, cioè dove non puoi, non puoi veramente non saltare e fare punto e concludere la partita. Poi vabbè, io amo giocare a scacchi, quindi tendenzialmente la mia strategia è diversa, però questa volta ho deciso di fare un video, almeno ci provo, divertente perché quello che ho letto mi ha molto divertito. Allora, innanzitutto chiariamo un fatto, ma davvero pensate che i ribelli siano degli ignoranti? I ribelli sono degli ignoranti per voi? Vabbè, allora ho deciso che appena un po' di tempo farò un video in cui spiegherò perché chi sono davvero i ribelli. Innanzitutto vi dico solo questo, che il primo rivoluzionario della storia si chiama Gesù Cristo. Ora, ho riso da impazzire quando ho saputo che qualcuno ha detto che io mi sono paragonata a Gesù. Mi chiedo come mai non abbiate detto che mi sono paragonata a tutti quelli che ho citato? Evidentemente perché quelli che ho citato manco li conoscete. Invece Gesù è più famoso e quindi è probabile che l'abbiate detto per quello, al di là della macchina del fango, della calugna, eccetera. Ma andatevi a vedere, per chi non l'ha visto, il video indagine fittizia e scoprirete quello che volevo dire. Cioè almeno scoprirete qualcuno di voi, forse riuscirà a capirlo, ma è un discorso forse troppo complesso per voi, quindi lasciate perdere, insomma. Figuratevi se vi posso dire, andatevi a vedere il convegno, dubbio, precauzione, perché lì proprio, cioè, non ce la potete fare. E quindi lasciamo perdere. Vi dovreste chiedere invece come mai io quando parlo faccio tante citazioni? Questo vi dovreste chiedere. E soprattutto perché fra le tante citazioni ogni tanto cito uno dei miei libri, in particolare il terzo. Qualcuno dice che mi voglio solo fare pubblicità, quindi uno pensa che in Italia leggono pochissime persone, quasi nessuno vive scrivendo libri e quindi qualche inqualificabile, perché io non voglio offendere nessuno, ma inqualificabile cittadino con cittadino, pensa che io sia salita sul palco per vendere il mio libro, sul palco del 25 settembre. A me fa così ridere questa cosa. Innanzitutto io scrivo da sempre, questo si sa, e questo è il mio terzo libro. Vi dovreste chiedere come mai pubblicizzo il terzo e non gli altri due. Poi magari ve lo dico alla fine del video perché... Ma quello che io voglio farvi capire è che se volessi davvero pubblicizzare il mio libro, io vi lascerei i video, vi indicherei il link dei video da vedere, che sono anche fatti da altri tra l'altro, in cui, insomma, emerge qualcosa di questo libro. Invece che cosa faccio? Vi faccio delle citazioni del mio libro, come le faccio di tantissime altre. Quindi evidentemente lo scopo non è quello di dirvi comprate il libro, quella è la pubblicità. Lo scopo è di comunicare, di trasmettervi un messaggio, con quello che io credo so fare meglio. Perché la mia parte razionale, cioè, dirigenti di polizia, ce ne sono tantissimi, diciamolo. E quindi voglio dire qual è la mia particolarità. Sì, ho vinto tanti premi, sono stata premiata dalla società civile, ho risolto un sacco di indagini. C'è sicuramente un bel curriculum che non hanno tutti. Anzi, io sto ancora aspettando che qualcuno mi presenti un funzionario che ha un curriculum almeno simile al mio. Ma al di là di questo, lì non c'è niente di originale, perché io ho seguito delle regole e sono una come tante, non è quella. Quello che io so fare è comunicare. Ma dove voglio arrivare col mio discorso? Voglio arrivare a dirvi che i commenti che ho letto mi hanno fatto capire che effettivamente, quando io dico che il complice principale della situazione che stiamo vivendo è quello che viene chiamato un alfabetismo funzionale, quindi la miseria, la miseria spirituale, intellettuale, cognitiva, logica, anche di onestà intellettuale, che poi si riflette sulla realtà materiale. E anche qua andatevi a vedere il video e capirete quello che dico. Sempre lo stesso, indagine fittizia, dove ho fatto il riassunto di quello che ho detto al convegno, perché mi era stato chiesto. Ecco, il punto è sempre quello. Io questo lo colgo dai vostri messaggi, dalle vostre critiche, e mi preoccupo. E allora ecco perché scendo in campo. E quindi due cose essenzialmente oggi vi devo dire. La prima è, chiunque scriva, scrive sempre per essere letto. Anche i vostri post su Facebook, voi li fate per essere letti. Facebook, Telegram, quello che sia. Ok? Come diceva il grande Umberto Eco, soltanto la lista della spesa noi la scriviamo per noi stessi. E allora cosa voglio dire? Voglio dire che quando voi mi accusate di voler pubblicizzare il mio libro, è chiaro che se io scrivo voglio essere letta. Ma poi io non è che dico vivendo un prodotto per il quale mi faccio lo scudo penale, oppure delle controindicazioni non ne rispondo, non ne sono responsabile, o che, non lo so, vado a fare una rapina e dico, vabbè, pubblicizziamo, entro in contraddizione con quello che ho sempre detto. Cioè qua parliamo di libri. Quindi già l'accusa che mi viene mossa veramente è ridicola. Ma la cosa che mi diverte di più è che, ripeto, nessuno si chiede, si chieda come mai io faccio tante citazioni. Perché io penso che la cultura sia fondamentale, sia una delle pochissime armi che noi abbiamo contro lo sfacelo. E che soprattutto sia l'unico mezzo per condurci, o non l'unico mezzo no, ma un mezzo, forse il più facile, per condurci alla spiritualità. Poi ce ne sono tanti altri di cui adesso non ho il tempo di parlare. E questa è essenzialmente una guerra spirituale. spirituale. Quindi siccome quello che io sto cercando di fare, mi rendo conto che è utopistico, perché io voglio portare delle idee. Io non voglio semplicemente, io non sono solita su quel palco così. Adesso ve lo dico, perché forse dicendolo chiaramente, perché sono solita su quel palco, riuscirete, chi di voi non l'ha capito, riuscirà a capirlo, almeno lo spero. Io voglio cercare appunto di portare delle idee, perché sono quelle che ci permettono di cambiare effettivamente la storia. protestare e basta, dissentire e basta, non serve a nulla, almeno non porta da nessuna parte, l'abbiamo visto. Voi dite unitevi, ma anche se noi ci unissimo tutti, non lo so quanti siamo rimasti, quelli che lottiamo, quelli che non usiamo davvero il Green Pass, quelli che ci opponiamo a tutta questa narrazione, esageriamo? Non lo so, 10 milioni? Anche se ci uniamo tutti, scendiamo tutti insieme in piazza, non cambia niente, perché bisognava fare altre cose che io ho suggerito di fare e che non sono state fatte. E allora dove voglio arrivare? La cultura. Dicevo, la cultura, e quando parlo di cultura, non parlo soltanto di letteratura, di poesia, chiaramente, ma parlo anche di storia, di filosofia, di fisica quantistica, di neuroscienze. Ecco, sono degli strumenti fondamentali per arrivare al risveglio, a quello che è il risveglio spirituale. E allora, quando io faccio tante citazioni, le faccio per due ragioni, essenzialmente. La prima, per non attribuirmi i meriti che non sono i miei. Quindi io non faccio come i finti ribelli, quelli sì ignoranti sul serio, perché citano altri e se ne assumono il merito, fanno finta di essere loro che hanno pensato quelle cose. Le pecore belanti che li seguono nella loro ignoranza sono convinte che loro siano degli illuminati, perché dicono e esprimono dei concetti che in realtà sono già stati espressi da altri. Quindi io, per onestà intellettuale, quando faccio una citazione, dico anche chi è la fonte, perché nessuno possa pensare che io sia... io non sono nessuno. Ecco, sono una persona come tante. Quindi, la prima, quindi, è un discorso di onestà intellettuale. La seconda ragione per cui faccio tante citazioni, e quindi non soltanto l'importanza della cultura di trasmettere quello che io credo sia importante, ma è perché voglio trasmettervi un altro messaggio, cioè quello che tutto o quasi è stato già detto. E se tutto o quasi è stato già detto, questo significa che, come diceva Gramsci, la storia insegna, ma non ha scolari. E quindi noi abbiamo bisogno di sentirci ripetere sempre le stesse cose per assimilarle. E allora, quando c'è una frase, un concetto che io voglio esprimere, che si trova nel mio libro o in qualche mia poesia, che tra l'altro non ho mai pubblicato, allora uso la mia poesia, oppure uso il libro. Noto che quando uso le poesie nessuno si scandalizza, forse perché non le capisce, forse presumo quasi nessuno, o comunque, chi mi critica evidentemente non le capisce. Invece il libro lo capiscono. Ripeto, non ho pubblicizzato qualcosa di illegale, pubblicizzo qualcosa che rappresenta me stessa in modo particolare. E perché pubblicizzo il mio terzo libro e non gli altri due? Perché io non mi sono svegliata il 25 settembre. Io non è che sono salita su quel palco il 25 settembre, prima il mondo mi andava bene, ero contenta e tutto era rose e fiori. No. Io ho iniziato il mio percorso per fare qualcosa, nel mio piccolo, nel mio microscopico, per contribuire a costruire un mondo migliore, nel 2018, quando cioè ho iniziato a scrivere il mio libro. quello che pubblicizzo, La ragazza con la rotella in più. E quindi, ecco perché sono particolarmente legata a quel libro. Ma quello che io ho fatto il 25 settembre non è salire sul palco perché avevo bisogno di due minuti di celebrità, ok? E perché tutto quello che avevo fatto fino a quel momento aveva fallito. E quindi ho detto, vabbè, io provo a fare questo. E perché provo a fare questo? Perché la mia coscienza era tale, gridava così forte, che io non potevo più stare zitta, perché non potevo essere complice di tutto quello che stavo vivendo e anche subendo, ok? Io ho iniziato tanti, tanti, io ho iniziato forse ancora prima della pandemia a dire quello che secondo me non andava bene in questo mondo. Lo facevo nel mio piccolo, nel mio microscopico, e mano a mano mi sono allargata. Ho provato a farlo, anche condividendo molta informazione libera, ho provato a farlo con dei post, con delle riflessioni, mi hanno chiuso dei profili Facebook, motivo per cui ho aperto un canale Telegram che si chiama sempre come me, Nandra, perché avevo questo bisogno di comunicare. O l'ho fatto rivolgendo i miei colleghi, chiedendo e supplicando un gesto di solidarietà che facesse in modo che nessuno più entrasse in mensa dal 14 agosto, quando c'è il Green Pass diventato obbligatorio nelle mense di polizia. ho fallito anche lì. Quindi la mia è una storia di fallimenti. Come diceva Churchill, l'entusiasmo è passare da un fallimento all'altro con entusiasmo. No, scusate, il successo, perdonatemi, il successo, diceva Churchill, è passare da un fallimento all'altro con entusiasmo. E quindi io sono una persona di successo, perché comunque sono felice. E come diceva poi Ennio Flaiano, il successo è un participio passato. Quello è. Quindi, perché vi dico queste frasi? Perché noi dobbiamo tornare a dare la giusta importanza alle cose. Cosa che oggi si è totalmente persa. Scusate il gioco di parole. E che i miei video sono video di getto, video spontanei. Io dico quello che mi passa per la testa in questo momento. Quindi, io salgo su quel palco. Perché? Innanzitutto ho iniziato dicendo sono una libera cittadina. Perché, visto la presentazione che mi era stata fatta, io dovevo dire che non ero lì a rappresentare la polizia. Non ero in divisa. E quindi ero una libera cittadina. Non rappresentavo alcun partito politico. Né lo rappresento tuttora. Anche questa cosa. Sfatiamo anche questo mito della politica. Red Ronny è stato il mio mito fino a poco tempo fa. Quando mi ha chiamato per intervistarmi, io ero la persona più felice del mondo. Perché sono cresciuta con i suoi programmi. Quindi avere Red Ronny a casa mia, che beveva nei miei bicchieri, si siedeva sul mio divano, stava con me. Cioè, per me era una gioia. Quindi è stato bellissimo fare l'intervista con lui. Quello che poi è successo, è chiaro che è stata una delusione, ma una delle tante che ci sono state in questo momento, ma io accetto tutto, perché voglio dire, tutto serve e mi sta servendo tantissimo. E allora, quello che è successo, raccontiamolo, è successo che io ho visto quello che lui ha detto con Zainz, che tra l'altro non ho niente contro di lui, anzi, l'ho anche seguito, lo reputo, beh, un amico, una parola grossa, ma comunque una persona valida, ecco. Quindi niente da dire contro di lui. Se non che, che cosa succede? Succede che lui dichiara che io sarei sostenuta da un politico. Io non sono sostenuta da nessuno. Quando lui mi chiese della politica, io gli risposi, ma soprattutto le cose sono andate molto diversamente. Lui mi ha fatto una telefonata, evidentemente perché qualcosa gli aveva dato fastidio il mio comportamento, cose personali che riguardano ovviamente altri, amici suoi, mettiamola così. Lui mi chiama e mi dice ma tu sei, mi dice, conosci, mi sembra, non mi ricordo esattamente, dovrei guardare, sentire esattamente la telefonata, mi dice tu conosci o sei sostenuta da tizio? E io dico sì, certo che lo conosco, come conosco quasi tutti i politici tra l'altro, visto che mi hanno chiamato quasi tutti. Beh, allora non mi chiamare più e mi chiudo il telefono in faccia. Da questo lui ha dedotto che io sarei manovrata, strumentalizzata da un politico. Niente di più falso. Se fosse così, io mi domando come mai non ho accettato di candidarmi alle suppletive? Come mai non mi vedete accanto ai vari politici che mi hanno chiesto di stare al loro fianco? Come mai? Perché io al momento non sono interessata alla politica parlamentare. Perché dico il momento? Perché ho imparato a non dire mai, mai. Perché è stupido. Ok? Quindi io non ho mai desiderato fare politica perché la mia idea di politica coincide molto con quella che cantava Gabber nelle sue canzoni. ma non lo so quello che accadrà domani. Io ho molto senso di responsabilità. Quindi io sono pronta e l'ho dimostrato il 25 settembre a perdere tutto purché il mio paese torni un paese libero, giusto, un paese in cui la verità trionfi e soprattutto in cui le persone possono davvero essere felici. E io cerco nel mio piccolo di fare qualcosa per contribuire alla felicità di tutti. Nel mio piccolo per quello che so fare, per quello che posso. Ok? Allora, tornando al discorso, io sono salita su quel palco per rivolgermi innanzitutto ai miei colleghi perché tutti i miei colleghi sanno chi sono. Erano in piazza lì con me quel giorno. Lo sapevano che sarei salita su quel palco perché prima di salire su quel palco li ho chiamati al telefono. Molti erano dietro, erano vicino a me sulle scalette che mi incitavano, mi registravano, mi dicevano sei tutti noi. Ed io ero vestita di blu e di verde come un pagliaccio dico io, con quei pantaloni che ho comprato insieme ad un altro collega il giorno prima perché dovevo essere il simbolo dell'unione, perché quello volevo essere. Ok? Perché gli amici dell'esercito e gli amici vigili del fuoco che amo moltissimo erano vestiti con la maglietta verde perché non ci conoscevamo tutti, ci dovevamo riconoscere. Polizie, carabiniere indossavamo invece la maglietta blu. E quindi io come simbolo dell'unione visto che l'idea di partecipare alla manifestazione del 25 tutti insieme è stata mia, ok? Mi sono vestita di blu e di verde e sono salita su quel palco perché speravo che il mio gesto servisse da esempio perché noi forze dell'ordine non siamo come tutti gli altri che vi piaccia o no perché siamo noi che siamo chiamati a dare esecuzione alla legge, siamo noi che applichiamo la legge, siamo noi che scortiamo i politici. Quindi ho pensato se tutti noi ci facciamo sospendere chi mai la applicherà questa tessera della discriminazione, questa tessera della schiavitù, questa tessera che porterà la distruzione dell'essere umano perché io questo ci credo ciecamente perché porterà la distruzione dell'essere umano perché porterà la distruzione del libero arbitrio chi la applica se noi diciamo di no? Se noi ci facciamo sospendere? Bastava forse una settimana tutti insieme, 90.000 poliziotti tutti a casa, non è successo, ho fallito, ok? Altro messaggio che ho dato a tutti perché io su quel palco ero una libera cittadina, non mi sono presentata come dirigente di polizia perché su quel palco non contava niente la mia professione, su quel palco io mi sono sentita medico, mi sono sentita bidella, professoressa, cameriera, netturbino, mi sono sentita chiunque fosse stato discriminato, chiunque fosse stato leso nell'esercizio dei propri diritti, ok? E quindi io volevo, speravo che dal 15 ottobre tutti gli italiani che si dicevano contrario al Green Pass per una settimana, almeno per una settimana, scegliessero di stare a casa e di non usare quella testa, l'ho anche detto, l'ho detto nelle interviste, l'ho detto sul palco, sono sospesa per questo, per aver espresso il mio pensiero in conformità alla Costituzione, perché io sono sospesa per non aver violato alcuna norma giuridica, io ho esercitato l'articolo 17 e l'articolo 21 della nostra Costituzione, sulla quale ho giurato, ok? E allora, scusate se mi infervoro, ma ci tengo molto a questo discorso, quindi io sono salita su quel palco non perché volevo due minuti di gloria e questo lo testimonia il mio libro che era stato pubblicato con uno pseudonimo, a me piace stare dietro le quinte, non mi piace apparire, lo vedete pure, quando faccio video mi emoziono da sola, perché non è questo che io volevo fare, lo sto facendo così come ho deciso insieme a delle amiche di dare vita al coraggio di Venere, a questa associazione culturale, prima ancora Venere vincerà, perché? Perché voglio far camminare delle idee nel mondo. Io mi rendo conto che la gente non riesce a capire che cos'è lo scudo penale, che non riesce a capire la gravità della mancata, scusate, un lapsus, non riesce a capire la gravità del fatto che manchi la vigilanza attiva, la farmacovigilanza attiva su questo siero sperimentale, sperimentale fino al 23 luglio 2024, non lo dico io, lo dicono medici, medici con un curriculum straordinario, allora la gente non riesce a capire tutto questo e io penso che possa capire che cos'è l'energia femminile, lo possono capire solo i ribelli, solo i ribelli, che sono tutto meno che ignoranti e farò un video per spiegare chi sono davvero i ribelli. E allora, mi sto dilungando un po' troppo oggi, cerco di concludere, quello che io ho cercato di fare è di portare appunto delle idee, delle idee di libertà, perché la libertà che noi reclamiamo giustamente è un riflesso della nostra libertà interiore, se noi non ci riappropriamo della nostra parte spirituale, non impariamo ad essere liberi dentro, se noi non amiamo, se noi non ringraziamo, se noi non siamo quello che siamo, un discorso che uno dei miei maestri, Battiato, ha riassunto in quella canzone straordinaria che è Cerco un centro di gravità permanente, ma avete capito quella canzone? Cioè, chiaramente non parlo i ribelli, parlo i finti ribelli, ok? Perché sono due cose diverse, i finti ribelli sono gli ignoranti, quelli che si scandalizzano se io pubblicizzo il mio libro, io pubblicizzo il mio libro non come pensate voi perché voglio che venga acquistato, non ho mai detto acquistate il mio libro né mai lo direi, perché voglio sì che venga letto, certo che lo voglio, altrimenti non lo scrivevo, ok? Altrimenti non cercavo un editore, ma che discorsi? Io penso che quello sia la parte più bella di me, la più vera, e allora in mezzo a tanti libri spazzatura che ci sono in un paese che non conosce più la meritocrazia, ok? Consiglio di leggere il mio libro, lo consiglio come consiglio di leggerne tantissimi altri, guardate, i miei social sono pieni di citazioni e quando parlo consiglio tantissimi altri scrittori, persino quando presento il mio libro consiglio libri di altri, perché leggere è fondamentale, perché la cultura è la prima arma che ci libera da quello che noi stiamo vivendo, perché ci permetterebbe di riappropriarci della logica, ok? E di far passare il cuore prima per la testa, ok? E allora, riassumendo, ho aperto 3000 parentesi per dire che cosa? Per dire quello che io cerco di fare è essenzialmente fare in modo che l'essere umano si riappropri del proprio potere e per riappropriarsi del proprio potere bisogna a conoscere se stessi, conoscere il proprio daimon, quindi la propria unicità, quello di cui parlava Gurdjieff, ma Gurdjieff non posso chiedere alla gente, alla maggior parte della gente di leggere Gurdjieff o di leggere Yogananda, Aurobindo, Gandhi e tantissimi altri, San Francesco, Sant'Agostino, l'elenco è lunghissimo, perché di gente illuminata ne abbiamo avute ne abbiamo avute veramente tantissime nel nostro mondo, ok? Allora cerco di fare una sintesi molto se vogliamo terra terra, magari non sarà perfetta, io non sono perfetta, ma cerco nel mio piccolo di dare il mio contributo, allora quando voi dite eh ma cosa fa la Schillerow, ci ha portato a Firenze per fare che cosa? Per iniziare un progetto, un progetto che a breve si concretizzerà in un'associazione, ma è un progetto spirituale, un progetto culturale, perché se voi pensate che la Schillerow voglia imbracciare il fucile e fare una strage, non avete capito niente, perché ripeto, non avete capito niente di me, ma non avete capito niente della vita, e questo non può che dispiacermi, allora quando ci sarà il giorno del giudizio e quel giorno ci sarà, non preoccupatevi di quello che la Schillerow dirà e di come sarà giudicata, perché la Schillerow sta facendo tutto quello che può per cambiare e salvare nel suo piccolo questo mondo, perché questo mondo per me è da salvare in questo momento storico, sarò esagerata, sarò complottista, ma dite di me quello che volete, le etichette non mi interessano, perché sono limitazioni in cui non mi riconosco, ok? Allora, io sto cercando di portare l'essere umano a riappropriarsi di se stesso, della propria interiorità, della propria spiritualità, della propria forza, accogliere la bellezza e la profondità della vita e quindi dell'essere umano e per farlo uso gli strumenti che so utilizzare, ok? Che sono quelli del diritto, perché sono una giurista, ripeto, andate sulla Treccani, andate sul dizionario che preferite e scoprite chi è una giurista e quindi lo faccio con le armi della razionalità, ma lo faccio anche con le armi tipiche del mio essere donna, e cioè quelle dell'energia femminile. E se voi non credete in questo progetto troppo complesso, esattamente come il mio libro che non è per tutti, non seguitemi, non leggetemi, io ripeto, non chiedo soldi, non mi interessa, faccio tutto questo per dare il mio contributo e soprattutto perché un domani la mia coscienza possa dire tu non sei stata complice, io non sono salita su quel palco per dire io sono un'eroina, io sono un supereroe, io sono una salvatrice, io sono superiore a voi, no, io ho detto io sono una persona comune che cerca però di fare qualcosa, qualcosa per dire no ad un sistema di discriminazione, qualcosa che per dire no ad un sistema legittimo che non ha fondamento giuridico, ok? Io voglio un mondo diverso e cerco di fare nel mio piccolo quello che posso per costruirlo questo mondo diverso, sbaglio, sì, sicuramente, non sono perfetta, però questa cattiveria che avete, che alcuni di voi hanno nel fare i commenti non ferisce me, a me veramente mi fa molto ridere, ripeto, sono delle palle meravigliose che mi alzate a rete e io non posso che schiacciare, sono, come dire, scaccorre, se la vediamo dal punto di vista degli scacchi. Io non so quello che farò domani, non so cosa sarà della mia vita, non so se verrò cacciata dalla polizia, sicuramente sì, non so se tornerò a fare l'avvocato, non lo so, se farò la scrittrice, boh, non ho scelto, per adesso vado avanti e continuo la mia battaglia, la mia battaglia per la verità, per la libertà, per la giustizia e soprattutto per la felicità degli esseri umani e un domani quando qualcuno mi chiederà tu cosa hai fatto, il mio elenco è lungo, ho cercato di fare tante cose e tante ancora ne farò e tante cerco di farne e voi non le sapete, non le potete sapere perché non le ho dette ancora a nessuno, non lo so se riuscirò a farle tutte, ok, però almeno io ci provo e voi che siete leoni da tastiera, che cosa fate? Ognuno risponde alla propria coscienza, vi auguro una splendida giornata, io adesso scappo e vado a gustarmela con gli amici meravigliosi che ho la fortuna di avere, con la natura fantastica che ho la fortuna di poter visitare e vado a godermi la vita senza Green Pass. Grazie.